Quando si parla di service generalmente si pensa ad una raccolta di beneficenza, ma i Lions operano anche direttamente per il bene civico, spesso in ambito sanitario. Il club Lions Castella Ragonese e Pollino Sibariti del Valle dell'Esaro, in collaborazione con Arco e Universo Humanitas, ha organizzato un doppio appuntamento a Rogiano Gravina, all'insegna della prevenzione contro il tumore al seno e al collo dell'utero. Questo, anche se meno diffuso della precedente, ha due caratteristiche che lo rendono particolarmente importante. Colpisce ragazze molto giovani e soprattutto esiste un vaccino per prevenirlo. Scopo di questo service è stato proprio la sensibilizzazione dei genitori alla vaccinazione delle figlie in età adolescenziale e ad una diagnosi precoce del cancro al seno, che non è più una condanna a morte, a patto che venga riconosciuto per tempo. Le possibilità di sopravvivenza sono oggi ben oltre il 90%, proprio se il tumore viene individuato in fase precoce. La prevenzione è molto importante perché un tumore preso all'inizio permette sicuramente con le attuali tecnologie di salvare la vita a chi ne ha affetto. Prima il tumore viene diagnosticato, prima si cura, prima si guarisce. È importante poi fare sinergia. Noi diciamo che insieme si raggiungono gli obiettivi, quindi crediamo tanto nella rete e oggi la rete qui è presente con i Lions, Castella Reconese, Sibaritide e Valle dell'Esero e con l'Humanitas di Salerno. Quindi insieme a queste tre sinergia abbiamo fatto questa bella giornata che per me è emozionante perché ricorre il sesto anno della morte di mia moglie e quindi l'ho voluta fortemente e devo ringraziare i Lions di Castella Reconese perché mi ha supportato in questa grande manifestazione di oggi. E quindi per noi è la nostra missione, fare screening e prevenzione perché è l'unica medicina contro il tumore.